La loro testimonianza di quello che è stato il mio impatto con questa enciclopedia bellissima. Quando scrivo, quando lavoro a qualcosa, ci lavoro di notte in uno stato di delirio. Poi la mattina mi accorgo di quello che ho scritto e tiro le somme. In questo caso è successo un fenomeno, che succede sempre qualcosa nel tempo di chi scrive. Quando si scrive di qualcosa, il tempo ha una funzione preeminente. Mi ricordo che, scrivendo di questo cinema per questa enciclopedia magica, e... cosa li dite voi? E nel contempo, mi veniva sempre in mente una poesia famosa di Lamartine, che suona così in primi versi, l'acca, no? E si, toujours pousser vers de nouveaux rivages, dans la nuit eterna, en portée sans retour, non pourrons-nous jamais, dans l'océan des âges, jeter l'ancro un seul jour? No, non possiamo gettare l'ancro. Non possiamo gettare l'ancro perché, come dice anche Achille, no? Eh, c'è qualcosa che produce una piega, ed è la parola, la parola, l'arte. Produce una piega, ma anche la fisica, come hai ricordato brillantissimamente Giorello. C'è una piega che rende inspiegabile e rende impossibile il fatto. In questo caso, qual è stato il contraccolpo che ho avuto, pensando al cinema, quella notte? Perché è tutto in una notte che accade questo. Ho pensato, perché ho visto cento volte, e forse più, ombre rosse? Perché non mi sono fermato alla decima, alla cinquantesima volta, ma ho continuato a pensare e a guardare, ombre rosse per cento e forse più volte? Cosa significava questa ripetizione incessante? Beh, scrivendo per questa enciclopedia, mi è venuto finalmente questo perché. Perché da giovane, quando appunto verso i tredici anni, quattordici anni, ho cominciato a guardare in bella rossa, e poi per un lungo lasso di tempo, fino a quella notte, ero un assassino. C'era in me una forte componente delinquenziale che... Raffaele rise, giusto avendo. C'è, tutt'oggi. Però almeno lì l'ho individuato. Una forte componente delinquenziale che mi faceva scattare un'identificazione totale e assolutoria con uno dei protagonisti di Ombre Rosse, Hetfield, no? Interpretato da John Corradine, vi ricordate, no? Che era questo piccolo essere un po' vampiresco, vestito in nero, con il cappello nero, un giocatore, un giocatore d'azzardo, ma anche un pistolero, che in viaggio sulla carrozza fatidica, cosa fa, ma anche prima, corteggia questa signora, Lucy Mallory, la corteggia spudoratamente, lei è già incinta da nove mesi, fra poco partorirà, come tutti sappiamo, ma la corteggia in modo viscido, l'amica di lei lo mette in guardia, dice attento, no, attenta ragazza, attenta amica, quello è un'apparenza, un'apparizione, non fidarti di lui, ma lei si innamora, nonostante che abbia un bel capitano come marito, abbia questo figlio in attesa, si innamora di lui. E qui, in tutti questi anni, ogni volta che lo guardavo, questo film, e mi identificavo di che bene, bene così, no? Bene, lui è carino, lui ci sa fare, lei è una bella donna, ok, va bene che sia così, no? A un certo punto però succede una cosa molto inquietante, durante la, durante una posta della, della carrozza, e lei all'ultima donna sviene, no? Sviene, ma John Carradine, Hetfield, non la raccoglie, non la prende tra le braccia, come avrebbe fatto un uomo, un uomo che ama una donna, ma non qualsiasi uomo, no, va a chiamare lo sceriffo che stava nella stanza accanto, e dice, guarda che questa è caduta, lo sceriffo la prende nelle braccia, no? E la porta sul tavolo, e la gli anima, eccetera, no? Quindi, no? Hetfield non ha il coraggio, no? Di prendere questa donna in braccio, né la voglia probabilmente, la fa fare, no? Allo sceriffo. Dopodiché arriviamo al gran finale. Al gran finale cosa accade? Sapete tutti, la carrozza è in fuga, le ombre rosse, no? Gli apache, inseguono la carrozza, la donna che appena ha partito il bambino, no? Pensa che sarà presa, stuprata, e vi dicendo, no? Il Hetfield le pone la pistola, no? Sulla tempia, pronto a spararle, come ogni buon altruista, no? Sappiamo cosa sono gli altruisti, no? Colui che pensano che l'altro sia un imbecillo, no? Come ogni buon altruista gli pone questa pistola, no? Sulla fronte, ma lei prega e finalmente arriva la Divina Providenza. La Divina Providenza è un indiano che tira una freccia addosso a Hetfield e lo fa secco prima che possa, no? Che possa sparare a questa donna, che di fatti si salva, incontra il marito, a tutti i felici e contenti. Ecco, in quel momento ho capito, no? Ho capito che avevo cambiato tempo, che il mio tempo della, no? Della identificazione con Hetfield era concluso e che ero diventato un'ombra rossa. Ero colui, no? Che aveva tirato finalmente la freccia Hetfield. Ero un'altra persona in un altro tempo. E di questo ringrazio Achille e tutti gli amici. Vorrei indicarvi che chi ha segnalato con un sì la dichiarazione di Umberto Silva sul fatto della fase delinquenzale era Raffaella Capria. Per cui sono contento che Umberto sia un'ombra rossa. Dopo daremo la parola a Raffaella Capria e ci dirà la sua idea del tempo. A Stefano Chiodi.